Nella giornata di ieri e in particolar modo durante il pomeriggio la provincia di Bari è stata colpita da maltempo e violenti nubi fragili. Colti di sorpresa, gli abitanti di Gravina in Puglia hanno dovuto affrontare una situazione difficile. Un forte acquazzone e grandi ne hanno colpito ieri pomeriggio Gravina in Puglia mandando letteralmente in tilta la circolazione stradale causando non pochi problemi alla linea elettrica. Molte zone della città, tra cui quelle centrali, infatti sono rimasti al buio fino a tarda ora per un guasto ad una cabina Enel. Prontamente sono intervenuti i tecnici per riparare il guasto e far fronte all'emergenza. Danni ingenti si sono registrati lungo alcune stradi principali dove la furia dell'acqua ha sradicato il manto stradale e fatto saltare alcuni tombini. A preoccupare maggiormente i cittadini è stata la situazione dei sottovia invasi dalla potenza dell'acqua. Grazie alla prontazione di uomini e mezzi che hanno lavorato fino alle luci dell'alba, la circolazione questa mattina è tornata quasi alla normalità, anche se sulle strade in entrate e in uscita dalla città, in modo particolare via Bari e via Spinazzola, si è registrato traffico intenso. L'eccezionale pioggia di ieri ha lagato per l'ernesima volta il sottopasso di Madonna delle Grazie. Una situazione che ha creato disagi in quanto anche quello pedonale delle Fall è chiuso per lavori. polemiche e proteste da parte dei cittadini ne abbiamo chiesto conto al sindaco Alessio Valente. Cosa rispondere ai cittadini? Si può rispondere in maniera molto chiara e pragmatica. Noi abbiamo due eventi che non possiamo controllare. Uno sono le opere pubbliche che ci danno, che ereditiamo, già fatte e realizzate, e l'altro è, in questo caso, le alluvioni, le bombe d'acqua, tutto quello che ha a che fare con volontà che vanno ben oltre la volontà umana. Io credo che, proprio partendo da questo secondo punto, il temporale di ieri era di un'intensità che probabilmente non abbiamo mai visto in questa città e credo che non ci sia infrastruttura da questo punto di vista che tenga o che non abbia subito dei danni. In più, noi sappiamo anche che ci troviamo di fronte alla costruzione. Tutti i sottovia costruiti in questa città hanno tutti problemi. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Voglio dire che la pioggia è finita alle 7 e stamattina alle 8 i sottovia erano già aperti. Quindi, semmai, il disagio si è registrato solo nelle ore notturne. E purtroppo, insomma, perché abbiamo vissuto anche la concomitanza dei lavori di ristrutturazione del sottopasso. E quindi davvero c'era la difficoltà a passare da una parte della città all'altra. Se l'evento l'avessimo vissuto di mattina, avremmo avuto il tempo necessario anche magari di organizzare un collegamento migliore tra le due città. Purtroppo è avvenuto già, diciamo, a pomeriggio inoltrato e diventava difficile intervenire, se non attraverso le pompe idrovore che hanno, diciamo, prontamente svuotato i due allagamenti e quindi adesso la città è ricollegata.